Le attività della scuola procedono regolarmente. Certo, ogni tanto abbiamo qualche piccola criticità, qualche classe che va in quarantena, qualche insegnante che è in isolamento fiduciario, però possiamo dire che l'attività didattica procede nel migliore dei modi. Mi permetto ancora una volta di ringraziare tutti quelli che rendono possibile il prosieguo dell'attività didattica, quindi docenti, collaboratori e prima di tutto gli alunni e le famiglie che ci stanno dando una grossa mano. Con le attenzioni che la scuola ha messo in atto, con il protocollo di sicurezza, insomma, riusciamo ad affrontare bene l'attività didattica. Tutti gli alunni presenti in questo istituto, quindi si parla di scuole elementari, di classe elementare, da sei anni in su, hanno l'obbligo di indossare la mascherina. Un obbligo che inizialmente non doveva essere previsto per tutti, come è stato anche preso dai ragazzi, come affrontano le singole lezioni. Sì, nei DPCM redatti dal governo prima della riapertura della scuola, fino al mese di ottobre, l'uso della mascherina era previsto solo in contesto dinamico, cioè nel momento in cui gli alunni andavano a muoversi, a raggiungere le proprie postazioni, la menza e quant'altro. Dal 3 novembre, invece, il nuovo DPCM ha stabilito l'uso obbligatorio della mascherina sempre all'interno delle scuole, quindi anche in condizione statica. Ci rendiamo ben conto del disagio che questo può comportare. La maggior parte, la stragrande maggioranza degli alunni e dei genitori ha ben accolto questo provvedimento e questa indicazione relativa alla sicurezza. Ovviamente non possiamo pensare ad un consenso del 100%. Qualcuno ha avuto da ridire, ci sono state delle rimostranze, però la scuola deve necessariamente far rispettare le leggi dello Stato. Questa è una scuola statale che deve dare pieno rispetto alle leggi dello Stato. Ripeto, ci rendiamo conto delle difficoltà, però confidiamo anche che la tanta attenzione, la tanta responsabilità che gli alunni, prima di tutto, stanno dimostrando, porteranno veramente a superare quanto prima questa emergenza. Permetto di dire una cosa, che i bambini veramente ci sono di esempio. Non fanno nessuna difficoltà nel rispettare le distanze, nell'igienizzazione delle mani, nell'indossare la mascherina e veramente, insomma, si comportano nel migliore dei modi. Da tutta questa situazione, certamente, possiamo trarre un insegnamento di educazione civica. Mancano tre settimane al Natale. Sappiamo che quest'anno è un Natale molto complicato, anche per i ragazzi che vengono qua, visto che la scuola è stata già anche un po' addobbata. Le iniziative però sicuramente o non ci saranno o magari saranno minori. Allora, certamente le tante iniziative che normalmente facciamo per il Natale, quest'anno non potranno essere svolte, anche se i docenti e i alunni si stanno un po' sbizzarrendo nella creatività, diciamo così. La scuola non farà passare inosservato il Natale, non tralascerà di avere momenti di riflessione su questa festa, su questa ricorrenza, però nel rispetto di tutte le norme. Stiamo lavorando con il digitale, con l'online, con qualche iniziativa all'aperto per piccolissimi gruppi. Naturalmente ci rendiamo conto che questo va a incidere molto sulla offerta della scuola, su quei bellissimi momenti di socializzazione. Ma quest'anno chiaramente non possiamo fare diversamente. Si lavorerà molto per far capire, diciamo così, ai bambini il senso di quello che si è fatto negli anni scorsi. Questo Natale ci insegnerà quantomeno a non dare per scontato la vita di tutti i giorni che abbiamo condotto fino a qualche mese fa.